Ballare, da quello che si usa di più, dal solito cantare, che insomma abbiamo già visto Lui è un imitatore, lui è Elio Bertello Un applauso d'Elio! Eccolo, percati la sigla Io ti lascio il microfono E mi metto là, mi metto lì Bocca al lupo, il palco è tuo Buonasera e ben noti al dizionario di lingua Questa sera avremo un gradito ospite, diciamo, uno che è veramente in gamba E' eccezionale E vedo che siete forti, siete un bel pubblico, veramente siete forti, davvero E volevo chiedervi, alla fine il gabbiano l'ha trovato la compagna E questo vedo solo piccioni io, non gabbiani Oppure questo si chiama anche gelato, ma è diciamo un po' di gesto E questo non lo so E voi direte, veramente Voi direte, ma Adriano, perché non canti? Perché se penso non canto, e se canto non penso E se penso, guarda E c'è una cosa che ho in mente Veramente E ve lo dico da tanto Che dici? Ma fai ginnastica? E no, sono molleggiato E cavoli E' una cosa che ho in mente Che volevo dire Che se ci volessimo tutti più bene E cavoli E penso che questo mondo sia meglio E dirci tutti quanti Non ti voglio bene E penso che la cosa sia la cosa più Più bella del mondo Si puoi dire ad un amico, un amico A compagno, un compagno A colleghi di lavoro E io penso che questo sia La cosa più bella E io con questo E volevo salutarvi Volevo mandarvi questo messaggio E vogliamoci tutti bene E siete forti E grazie Grazie Benvenuti al dizionario di lingua Alla prossima puntata Grazie, ciao E li ho finito? Posso intervenire? Interveni pure Allora Allora, aspetta Facciamo votare al pubblico 3, 2, 1 Oh, si sono spegnati Ok, adesso su Proprio Allora È un buon segno Allora, è un buon segno Quando rispondono così Perché vuol dire che sono vivi Che sono attenti Alla performance E che hanno credito Allora, io Il secondo l'ho capito Cioè, io Adriano, vabbè È abbastanza facile Il primo Cioè, il primo era Io, scusi Io vivo proprio in un mio mondo Parallelo Cioè, mi puoi Sì, in effetti Il primo Era un po' difficile No, perché, vabbè Quello non conosce nessuno Sarebbe una persona che conosco Che è un regista Anche che non so imitare Che è il suo invitare Ah, quindi hai imitato Ma non è uno Uno famoso Un amico Un amico Ah, quindi imiti anche i tuoi amici Sì, è forte E sono contenti loro Anch'io Ah, poi entra Nella Pai Entra nel Celentano E non esce più Eh no E vai a casa Eh no Perché Eh no Si è forte Perché te Posso farlo anch'io Mi presto il cappello Mi porto un secondo Ti giuro che Aspetta Allora, aspetta Ti faccio che Ciao ragazzi Come state? Bello che state E come dice Elio Siete forti anche voi Grazie Grazie a tutti Bello che veniva Ciao Elio E complimenti Elio, grazie Adesso però io Torno da mia moglie A Claudia Perché mi aspetta È giusto Grande Elio Dai grazie Ti lascio la giurla Sono poi